Siamo stati un po' leggeri a rivista l'occasione. Questo è il caffè la Valdostana, adesso vi faccio vedere come si fa a bere. Allora, devo solo dare attenzione con le due dita, i due podici, le mani tra pari i due viti, questo e questo. Ah, quelli a casa. Quelli col podice. E piano, piano, molto lentamente. Attenso a che casa. Grazie. Grazie. Questa non si posa mai. La Roma, come la nostra? Sì, sì. Consiglio femministro. Ti vorrebbe. Cosa ci vorrebbe? Grazie, ragazzi. Bella professione. Siamo tutti. Una bella professione. Ciao, buonasera. 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 Per tenere duro. Sono tutti uomini. Abbastanza adulti. E lei ha una grinta. Auguri. Grazie.